Il volantino cita Cosolini dorme, Trieste muore. Con questo messaggio la Lega Nord chiude il concorso fotografico dal nome Scatta il Degrado, lanciato circa un mese fa, al fine di avvicinare e coinvolgere i cittadini alle tematiche del degrado pubblico, come marciapiedi dissestati, iscritte sui muri e di problemi dei rifiuti. Proprio riguardo all'immondizia, la foto vincitrice del concorso illustra l'invasione dei rifiuti in via Madonna del Mare, che invadono i marciapiedi e offrono uno spettacolo decisamente poco decoroso alla strada. Siamo stufi sinceramente di denunciare sempre noi queste situazioni di degrado e abbiamo deciso di dare la parola ai cittadini con questo concorso fotografico. I cittadini sono diventati protagonisti e hanno potuto loro stessi dimostrare cosa c'è che non va a Trieste e mettere davanti agli occhi di un sindaco che sta dormendo questa situazione assolutamente ormai ingestibile e incontrollabile. Le parole spese dei militanti della Lega Nord non hanno mancato di puntellare il lavoro del Comune, che ha detto loro non starebbe facendo abbastanza per combattere queste problematiche. Chiediamo anche che l'amministrazione si occupi anche di fare la manutenzione dovuta, di incrementare la raccolta dei rifiuti. Secondo noi questa situazione non viene fatto dall'amministrazione, non viene fatto attualmente dalla Cegas. Infine la persona che ha scattato la foto vincitrice riceverà come premio il pagamento dell'ultima rata della Tares, pagamento che verrà effettuato senza attingere a soldi pubblici o fondi del partito, ma da un'iniziativa privata. Grazie.